Ciao a tutti e benvenuti al canale Dutti e Salto Ispirazione. Oggi proveremo a fare questi bellissimi muffin di Halloween. Questo è il mio primo video di Halloween di quest'anno per cui lo voglio fare veramente bellissimo. Ecco perché vi mostro questa bellissima e carinissima idea per Halloween. Ovviamente ingredienti preparazione ve li dirò a breve. Come prima cosa abbiamo bisogno di due uova, 120 grammi di zucchero, 140 di farina, due bustine di lievito, 50 ml di olio, 70 ml di fanta e naturalmente queste bellissime formine per contenere i nostri cupcake. Come potete vedere hanno dei disegni di Halloween e naturalmente il colorante alimentare giallo e rosso per creare poi il nostro arancione. Allora come prima cosa andiamo a mischiare le uova con lo zucchero aiutandoci con un impiner. Ecco qui, una volta uniformato l'impasto uniamo i due bustini di lievito alla farina, le mischiamo e poi versiamo il composto al nostro composto di uova e zucchero e mischiamo di nuovo. A questo punto dobbiamo aggiungere l'olio, ecco qui, e anche la fanta. Adesso andremo ad aggiungere un po' di giallo e un po' di rosso per creare il nostro fantastico colore arancione, mi raccomando mettetemi pochi. Ok, adesso che il composto è pronto possiamo versarlo nelle nostre formine e una volta versato dobbiamo far andare i nostri muffin a 180 gradi per 15-18 minuti. Nel frattempo che i nostri muffin si preparano e si raffreddino noi andiamo a preparare il frosting e ci serve lo zucchero a velo 150 grammi, 60 grammi di burro e naturalmente le nostre decorazioni. quindi del colorante alimentare stavolta verde, dei vermi di zucchero, questi occhietti spaventosi sempre della marca Trolli, degli occhi di zucchero e ovviamente dei biscotti oreo sbriciolati. Come potete vedere potete spezzettarli o magari scegliere anche un altro tipo di biscotti, quello che più vi piace. Come prima cosa andiamo ad aggiungere il nostro burro allo zucchero a velo e mischiamo fino ad uniformare tutto. Ecco qui, ora che è uniformata andiamo ad aggiungere un po' di colorante verde. Lo mettiamo esattamente qui sulle palette e rimischiamo. Ecco qui, una volta che il nostro frosting è pronto possiamo ad agiarlo sui nostri muffin naturalmente, quindi aiutandoci con un coltello o magari con una paletta andiamo a creare la nolla grassa dei nostri muffin. ok, una volta finito tutto non ci resta altro che iniziare le nostre decorazioni. Allora, potete riversare l'eccedente esattamente qui. Allora, per la prima variante io adesso cercherò di aprire questi zuccherini. Ok, per la prima variante quindi usiamo gli Oreo e questi simpaticissimi vermetti di zucchero. Per la seconda variante invece andrò ad utilizzare gli occhietti di zucchero. quindi li posizioniamo anche non in ordine come come più volete. Ecco qui. Ecco qui, sono davvero simpatici. per l'altra variante invece usiamo gli occhi grandi. Come potete vedere ho fatto una ponchetta all'interno del frosting in modo da poter appoggiare degli occhi esattamente così. Ecco, quindi adesso ricreghiamo la stessa ponchetta anche per gli altri due maximum. Ecco qui, adesso lo mettiamo verde. Ecco qui. Allora, come potete vedere è stato veramente semplicissimo ma anche velocissimo. Spero che il video vi sia piaciuto e scrivetemi pure nei commenti magari che alternative avreste fatto voi. Regalatemi un mi piace e non dimenticatevi di abbonarvi al nostro canale e se volete andate a riguardare anche gli altri video di Louis Joseph Ispirazione e ci vediamo la prossima volta. Ciao! Ciao!